Nessun altro autore più di Hegel continua a essere oggetto di vere e proprie mistificazioni da parte di una storiografia pigra che preferisce indulgere negli equivoci e nelle semplificazioni anziché comprendere lo spirito e la lettera del pensiero hegeliano. Proviamo a passare in rassegna sei di questi errori grossolani che circolano tuttora intorno alla filosofia di Hegel. Primo errore, pensare che Hegel sia un conservatore amico del potere. Hegel ha glorificato tutte le rivoluzioni del moderno, da quella inglese di Cromwell a quella francese. La stessa ontologia hegeliana assume come fondamento das Verden, il divenire, e la entwicklung, lo sviluppo, e pone al cuore dell'essere il superamento costante delle condizioni esistenti. Nella scienza della logica Hegel parla di mestizia del finito, conciò alludendo al fatto che gli essenti divengono e dunque si tolgono, hanno in sé una loro finitudine, contro le narrazioni che glorificano il presente come eterno e che quindi si pongono come apologetiche rispetto al potere. Secondo errore è quello di attribuire a Hegel la tesi manicomiale della fine della storia. Con buona pace di Kojev prima e di Fukuyama dopo, il fatto che Hegel neghi la possibilità di fare filosofia sul futuro, cioè su ciò che ancora non c'è, non autorizza in alcun modo a ritenere che Hegel neghi il futuro come sviluppo ulteriore della storia. Hegel dice a chiare lettere che si occupa del presente, del passato e dell'eterno e non del futuro perché il futuro non è e dunque non può essere oggetto di riflessione filosofica, ma non nega in alcun caso la possibilità che un futuro si dia, tant'è che nelle lezioni sulla filosofia della storia parla delle pianure russe e americane come possibile teatro della storia futura. Terzo errore, presentare caricaturalmente Hegel come teorico della razionalità di tutto ciò che esiste semplicemente per il fatto che esiste. Secondo la nota identità al centro dei lineamenti del 1821 tra reale e razionale, ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale. Per Hegel il razionale è il reale, non l'esistente. Il reale non è altro se non ciò che nell'esistente rispecchia l'idea nel suo movimento intelechiale di autosviluppo, sicché vi può benessere un esistente che non sia razionale e paradossalmente nemmeno reale. Hegel lo scrive testualmente. Ad esempio nel 1789 l'ordine di Ancien Regime era ancora esistente ma non più reale, da che lo spirito era già andato oltre e si accingeva a far crollare la vecchia impalcatura del mondo. In quarto luogo si fa talvolta fumettisticamente di Hegel il pensatore dell'astratto. In realtà la filosofia di Hegel fin dai testi giovanili si pone come una spietata critica delle filosofie dell'astratto e della riflessione. Non vi è pensatore più concreto di Hegel, a partire anche dalle immagini dense di realtà e di mondanità che egli impiega. La filosofia stessa, come Hegel non si stanca di ripetere, ha per oggetto il reale, il concreto, vale a dire le obiettive estrinsecazioni dell'idea nel suo processo di autosviluppo. In quinto luogo si presenta follemente Hegel come teorico del totalitarismo, secondo una linea ermeneutica schiusa da un testo peraltro molto mediocre come la società aperta ai suoi nemici di Karl Popper. Ora, lo stato di Hegel non è altro che lo stato costituzionale che incarna e condensa le acquisizioni della rivoluzione francese, senza annichilire la libertà dell'individuo concreto. D'altro canto, a differenza di Giovanni Gentile, Hegel non annulla la società civile nello Stato, ma la mantiene nella sua cerchia autonoma. In sesto luogo si presenta molto spesso Hegel come storicista assoluto, quasi come se la verità fosse semplicemente l'accadere storico. In questo modo però la scienza della logica diventa un testo apocrifo. Come è noto nella scienza della logica Hegel si occupa di Dio prima della creazione del mondo, vale a dire della verità considerata in forma logica prima e a prescindere rispetto alla sua obiettivazione nel reale. In conclusione vorrei asserire che nessun altro autore più di Hegel è oggetto, ieri come oggi, di fuorviamenti ermeneutici, dovuti in parte alla scarsa comprensione della sua filosofia, che indubbiamente è complessa e a tratti ostica, ma in parte anche a una chiara volontà dello spirito del nostro tempo di ostracizzare Hegel. Infatti Hegel, anche più di Marx, risulta l'autore più inconciliabile con l'ordine della globalizzazione capitalistica. E ciò in ragione del fatto che egli riconosce l'unione inscendibile di verità e storicità, ma poi anche l'esigenza di disciplinare politicamente la bestia selvatica del mercato, come egli la qualifica aiena, vale a dire di porre la politica al di sopra dell'economia, lo stato al di sopra del mercato. Ancora Hegel è inconciliabile con l'epoca contemporanea per il suo riconoscimento del carattere comunitario dell'uomo, ma poi ancora per il pensare dialettico come pensare il divenire degli essenti, sottraendoli alla loro presunta immutabilità. Per Hegel tutto ciò che è è in movimento ed è per questo che egli glorifica Eraclito, il pensatore del divenire, celebrandone la grandezza. Insomma, Hegel è l'autore fondamentale a partire dal quale si può comprendere non solo la realtà, ma anche la contraddizione nella quale siamo sospesi.